Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento col Meteo di TV6. Attualmente splende il sole su buona parte della penisola, tuttavia questa situazione non deve trarci in inganno. In quanto sono in arrivo correnti leggermente più instabili in alta quota che daranno luogo a tante equazioni fino al termine della settimana. Poi un momentaneo rinforzo anticiclonico sul finire del mese. Per quanto riguarda questo sabato, una giornata che si annuncerà piuttosto instabile sull'Abruzzo, soprattutto nei settori interni, su colline e montagne di buona parte del territorio regionale. Avremo quindi dei temporali pomeridiani localmente di forte entità, quindi con dei nubi fragili, qualche chicco di grandine e forti raffiche di vento. Questi fenomeni si estenderanno gradualmente verso i settori del primo entroterra, molto localmente sulle coste, quindi sui tratti costieri. Ci aspettiamo un aumento della nuvolosità, però fenomeni molto più rari e solo molto localmente di forte entità. Le temperature stazionarie, le massime tra i 28 e i 30-31 gradi, molto più gradevole il clima in piena notte e dopo il tramonto. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.